cari fratelli e sorelle tanto amati dai signore grazie a voi e pace da dio padre nostro e dal signore nostro gesù cristo e buongiorno da parte di don umberto diciamo insieme siamo rodati i sacri cuori di gesù di maria giuseppe ora e sempre ecco la prova di vita per oggi se voglio che li rimanga a te che importa questa parola di gesù rivolta a pietro ci aiuterà a seguire il signore senza confrontarci con gli altri terremo fisso il nostro sguardo e il nostro cuore su gesù per obbedirli volentieri o signore gesù cristo io so che a me mi deve importare soltanto di amare te senza invidio o gelosia per gli altri ed ora ascolta gesù che parla il tuo cuore ti dice anima cara come ignorate voi la forza del vostro dio avete paura di conoscerlo che lo cercate così poco la gioia delle vostre anime consiste nella comunicazione abituale con il vostro creatore il vostro salvatore nello spirito divino ed ora accogli con fede la benedizione del signore nella divina volontà nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amen ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui gesù benedisse la sua madre santissima prima di iniziare la sua passione quindi per mezzo intercessione del beato semprevergine maria madre e regina della divina volontà ti benedico per impiumere in te il triplice suggello delle tre divine persone affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel divino volere questa benedizione nel nome del padre comunichi in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza restituendo la sovrana di tutto nel nome del figlio Gesù comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza nel nome dello spirito santo comunichi in prima della tua memoria il sigillo del suo amore ti sono restituite la forza dell'anima del corpo si risanato ogni infermità spirituale e corporale ericchita e abbellita di ogni bene per tu sia la tua anima e per circondarti di difesa contro il demonio il mondo e la carne insieme con Gesù benedico tutte le cose da lui create affinché tu le riceva tutte benedette da lui ti benedico la luce l'aria l'acqua il fuoco il cibo tutto tutto affinché tu resti come in avvisato e coperto con queste benedizioni insieme con Gesù ti benedico il cuore la mente gli occhi le orecchie il naso la bocca le mani i piedi il corpo il viscere il respiro il moto e tutto ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per per consolarti ti benedico per farti il santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del padre del figlio e del spirito santo amen siano lodati i sacri cuori di Gesù di Maria Giuseppe ora e sempre grazie a tutti Grazie a tutti.